3, apri piano, piano eh? Quanti sono? Due. Come due? Una, due, tre, quattro palline, applauso! Ma adesso ci vuole qualcuno di più grande, chi chiamiamo? Chi chiamiamo? No? Chi chiamiamo? Sceglie lui, chi chiamiamo? Eh? Chi? No, chi? Va bene. Chi? Lui? Va bene, sentita lui, sarà un motivo, eh? Scegli la mano, venga chiuso o non apra, attenzione, eh? Stai attento. Ho! Uno, tu non apra, eh? Due, tre, soffi! Soffi ancora, giri, come contro le pate di lui nella corte di scuola! E' un'altra cosa! Hai visto cosa ha fatto? E' anche te, bravo! E' un'altra cosa! Hai visto, Sam? E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! Quanti c'altro te ne adatte, amore? E' perché lui è che la mamma è capito a lui, la pallina è capito a lui, la pallina è capito a me. E' stato più bravo! Guarda! E' magia, magia, magia! Qua, come? E lo quanto ne aveva lì! Così! Tu ne avevi più? Io sono l'uomo! Però poi mi devi dire dove devo andare per quelno! Ma ma che caffè è qua! E li ci! Cosa accende fuoco? Il cuoco! Ma dov'è il cuoco? Il portafoglio! Portafoglio! Ma dov'è? Ci sono i suoi sicuri! le prime. Hai bevuto il vino, vero? Hai bevuto il vino e adesso vedi il fuoco. Non è vero che c'è il fuoco, lei vede il fuoco? Non c'è il fuoco? Ma non sai che se papà mi dà una banconota e ti faccio vedere i soldi liquidi? Una banconota che piccola, chi ce l'ha? Una piccola, anche piccola. Banconota? Chi è la banconota? Banca? No, no, fanno cadere, eh. Vediamo un po'. Lasci, lasci, è già fatto. Signore. 10 euro. Va benissimo. Ah, guarda. Signore, guardate la differenza dei soldi che scottano dai soldi liquidi. Biliamo ha sentito i soldi liquidi, signora? Come no? I soldi liquidi. I soldi liquidi sono questi, perché assorbono l'acqua. Guardate, me ne ha dato il signore. Faccio una specie di cono, così, poi verso. Signora, mette le mani così, almeno non spocchiamo. Attenzione, eh. Qua sono anche giustate. C'ho sotto le dita. Attenzione, signora, eh. Uno, due, tre. E l'acqua è sparita. Perché sono i soldi liquidi. I soldi che assorbono l'acqua. Però qualcuno sta pensando, non ha messo acqua. Signora, hanno tre età meta. Uno, due, tre. E l'acqua è se fuori. E sono magia. Poi sono anche soldi sporchi, ma non è la serata. No, no. Sono magia, sono magia. Non ci vuole buono. Di sporchi vi lasciamo la sabice, dai. Ha capito? Sono magia. E adesso ho bisogno di riprimare.